Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canto alla Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai bambini. Sento russare. Siamo in compagnia di Stefania. Ciao a tutti. E qui c'è un leone. Dorme il leone, oggi. Che russa. Eh, sì. Polpette al sugo! Sì, sarà pronto! Sì! Ah, di nuovo tu! Ciao! Quando mi sveglio mi trovo sempre qui! Ciao! Eh sì, oggi è di nuovo il giorno per cantare Libertà. È domenica! E tu ti sei di nuovo addormentato. Scusate! Buona domenica a tutti! Buona domenica! Grazie, anche a te oggi. È il tuo turno oggi! Sì, è il tuo turno oggi. Hai preparato una canzoncina? Sì! Ok, che canzoncina hai preparato? E di nuovo sull'autunno, come si chiama? Aspetta, si chiama... Ah, la castagna! La castagna! Ah, bellissimo! Va bene, Roger. Allora, faccelo ascoltare. Sì! Adesso? È facile? Sì! Vediamo! Ok, siete pronti? La castagna! Canta, 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 cantare Libertà! E la castagna, la castagna, la castagna è dispettosa, se la tocchi, tu ti fungerai! Se la mangi è deliziosa, la castagna, la castagna, la castagna è dispettosa, se la tocchi, tu ti fungerai! Se la mangi è deliziosa! Ehi, bravo! Bravissimo, Roger! Roger, grazie! Mi sono appunto qualche volta con il riccio del... Eh, sì, tolte volte! Mi sono appunto la lingua io! Eh, bravo, infatti l'avevo pensato! Allora, bambini, spero che questa canzone vi sia piaciuta! Ringraziamo Roger per avercela insegnata! Sì! Grazie mille! Grazie a voi! Stefania, quando ci vediamo? Domenica prossima con una nuova canzoncina! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!